Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'Axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per Playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga Qua è Savix che vi parla Allora ragazzi oggi vi porto come salvare il completo col beige della IEE del nuovo DLC ragazzi Ancora non abbiamo trovato un merge funzionante per trasferirlo Intanto prendiamoci il completo Quindi andiamo ad avviare l'attività dell'agente ULP ragazzi ULP del nuovo DLC ragazzi Possiamo farlo anche in solo e una volta che siamo nella lobby lo startiamo A questo punto una volta i spawnati ragazzi nell'attività non ci resta altro che aprire il menu interazione Andare su stile ragazzi Andare su luci vestiario ragazzi E switchare per circa 30 secondi ragazzi Raga una volta che sono passati i 30 secondi A questo punto apriamo il menu Xbox ragazzi Se siamo da Xbox O il menu PS se siete da PS ragazzi E dovremmo stare 3 minuti così In modo che il gioco ci crasherà per inattività ragazzi Ci butterà fuori dall'attività Ragazzi intanto iscrivetevi Attivate la campanellina Se volete essere aggiornati sui miglior glitch di GTA 5 Online Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento E niente ragazzi Procediamo con il glitch A questo punto saranno passati i 3 minuti Raga e ci avrà fatto crashare per inattività Quindi chiudete i menu delle console Raga accettate il messaggio E una volta che saremo spawnati in lobby ragazzi Sbada bam Avremo preso il completo col nostro beige ragazzi Adesso non ci resta altro che andarlo a salvare Dove un pochettino vi pare piace Io ero con lo spawn dentro la base Quindi sono andato nell'armadietto ragazzi E me lo sono salvato Io spero che i miei video vi piacciono Raga lasciate un like Lasciate un commento Sostenete Xavix ragazzi Iscrivetevi a tutti i gruppi Telegram Che stanno in descrizione Se volete essere aggiornati Attivate la campanellina E se vi serve un account modato O aggiunte nell'axo ragazzi Sono qui apposta per voi Bella regà Alla prossima